Il tempo è denaro, diceva il vecchio zio Paperone. Frase perfettamente giusta, soprattutto quando vi trovate con qualcuno che vi attacca un bottone infinito al telefono. Però in finanza è vera, ma non esattamente così. Diciamo il tempo moltiplica il denaro. In questa prima lezione vi parlerò delle basi della matematica finanziaria. Non andremo in dettaglio, niente cose estremamente avanzate, però dopo il scontato che sappiate tutte le basi di matematica che ogni persona dovrebbe sapere, cioè tutte quelle che normalmente si insegnano o si dovrebbero insegnare alla scuola superiore. Ecco, questo è essenziale per proseguire poi con il resto del corso in cui si affronteranno altri argomenti di finanza e in cui talvolta capiterà di fare dei calcoli. Ok, vediamo, avrò bisogno di tavoletta e penna, quindi sarà un po' una lezione faticosa. Passiamo all'altra modalità. Ecco qui, allora, in finanza il tempo moltiplica il denaro. Vale a dire, abbiamo una linea temporale. Ah, come sono sentita bravo. Ok, questo è il tempo attuale. Indichiamolo con zero. Ok, qui sono gli anni futuri. Uno, due, tre. Questa è la linea del tempo. Qui abbiamo gli anni passati. Meno uno, meno due, meno tre. Ok, noi abbiamo adesso una certa quantità di denaro. Ok, ci chiediamo se avere questa quantità di denaro invece di adesso, tra un anno, sia esattamente la stessa cosa. Beh, penso che tutti concordiate con me che non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa per tutta una serie di motivi. E tutta una serie di motivi che portano, diciamo, a meno di casi strani in cui siate totalmente con le mani bucate, quindi è meglio averla dopo che prima, ma a meno di casi strani. Tutta una serie di motivi che portano a dire che averla prima è meglio, quindi averla adesso è meglio. Perché averla dopo, intanto non siete sicuri che la avrete. Anche se una persona ve la garantisce, chissà se poi ve la dà veramente. La persona potrebbe anche sparire nel nulla. Oppure averla dopo non vi permette di spenderla in questo anno, quindi di cogliere eventuali occasioni propizie. E averla dopo non vi permette di investirla, si spera, ottenendo dei profitti. Quindi ci sono queste tre ragioni, e per non dimicare la quarta ragione, che in questo periodo non si sente, in questa epoca diciamo non si sente, ma si sentiva fino a 5-10 anni fa, l'inflazione. Cioè il denaro tende solitamente a perdere valore. Quindi per questi quattro motivi, avere un capitale adesso è sicuramente, quindi C al tempo 0 è maggiore di C al tempo 1. Quindi averlo adesso è molto meglio che averlo un anno, tra un anno. E averlo avuto un anno fa? Beh, stessa cosa. Averlo avuto un anno fa vi avrebbe permesso di investirla, vi avrebbe permesso di spenderla, vi avrebbe, tanto avreste avuto la sicurezza un anno prima di averla e vi avrebbe evitato un anno di inflazione. Quindi averla un anno fa sarebbe stata ancora meglio. Quindi tanto più il denaro lo avete nel passato, tanto meglio è. Esiste un modo, diciamo, matematico per rappresentare tutto ciò? Eh sì, questo modo matematico deriva dalla formula del calcolo dell'interesse. Il calcolo dell'interesse in finanza è il vostro capitale per 1 più I, dove I è il tasso di interesse. Se I è il tasso di interesse annuo, e voi depositate il capitale presso una istituzione che vi garantisce un tasso di interesse annuo pari a I, dopo un anno avete esattamente C per 1 più I. Dopo due anni non avete, come molti pensano, C per 1 più 2 I, o meglio, avreste questo se il calcolo dell'interesse non fosse un calcolo composto. Però il calcolo dell'interesse è un calcolo composto, vale a dire se l'interesse è annuale, una volta passato il primo anno, il secondo anno si calcola l'interesse su tutto quello che avete accumulato, quindi ancora qui per 1 più I. Vedete perché ho detto che servono le conoscenze base di matematica. Quindi non è 1 più 2 I, che questo è l'interesse semplice, ma è C per 1 più I per 1 più I ancora, che questo è notoriamente uguale a C per 1 più I al quadrato. In generale, quindi, se voi lasciate depositato presso un'istituzione che vi garantisce un tasso di interesse annuo pari a I e vi garantisce anche, questo è importante, la capitalizzazione degli interessi annua, cioè quindi vi garantisce che ogni anno gli interessi vengono recapitalizzati, attenzione che le banche tendono di solito negli ultimi anni a capitalizzare gli interessi addirittura trimestralmente, comunque se lo fate annualmente, oppure potete rifare il tutto supponendo che I sia un interesse trimestrale, se lo fate annualmente, il capitale che avrete alla fine è C per 1 più I alla N, dove N è il numero di anni che sono passati. A seconda del valore di I e a seconda del valore di N, questa parte qui può anche diventare molto molto maggiore di 1, quindi soprattutto con l'aumentare di N e da via il cosiddetto reddito composto, ok, per I molto bassi e per N che non vanno oltre le unità, le prime unità, questa cosa qui rimane, davvero assai marginal, marginalmente superiore a 1. Allora, cosa c'entra questo con il fatto di avere i soldi prima o dopo? Beh, è esattamente il calcolo che noi applichiamo qui. Noi, ad esempio, supponiamo che se io avessi avuto i soldi l'anno scorso, li avrei potuti mettere in banca o investire, ottenendo un certo rendimento I. Quindi se avessi avuto i soldi l'anno scorso, adesso, se avessi avuto dei soldi C l'anno scorso, adesso ne avrei C per 1 più I. Se avessi avuto i soldi due anni fa, adesso avrei C per 1 più I al quadrato, C per 1 più I alla terza se li avessi avuti tre anni fa, questa cosa qui sapete benissimo che possiamo scriverla come C frato 1 più I alla meno 3. E vedete, questo meno 3, vediamo se riesco a fare questa magia di cambiare addirittura colore, wow, questo meno 3 è esattamente questo. Quindi se voi avete i soldi tre anni fa, adesso, se voi avreste avuto i soldi tre anni fa, qui ci sono i periodi ipotetici di secondo tipo addirittura, adesso avreste C frato 1 più I alla meno 3, che corrisponde a C per 1 più I alla 3. Quindi la formula in generale da usare per il passato è valore attuale, di un capitale C è C frato 1 più I alla N, dove N è il numero di anni che passano, intesi come negativi se sono passati, e possiamo estendere questa formula anche al futuro, quindi questo N sarà un valore positivo se gli anni sono nel futuro, quindi il valore attuale di una somma che riceverò nel futuro è C frato 1 più I alla N, dove questa volta N è un numero positivo perché è inteso nel futuro. Penso che sia evidente a tutti, adesso facciamo anche addirittura l'evidenziatore, che questa cosa qui, eccolo qui, se N è positivo è maggiore di 1, e quindi il valore attuale è minore di C, cioè il valore attuale diminuisce, se N è negativo, 1 più I alla N è minore di 1, quindi C diviso per qualcosa minore di 1 diventa più grande, quindi in generale il valore attuale, chiaramente se N è positivo, quindi stiamo parlando di cose che riceverò nel futuro, è minore di C, e il valore attuale se N è negativo, quindi stiamo parlando di cose che ho ricevuto nel passato, il valore attuale è positivo, cioè scusate positivo, maggiore di C. Torniamo alla penna perché straparlo. Ok, adesso una bella gomma, e vediamo se... Bellissimo, come avere una lavagna vera. Ok, quindi abbiamo imparato una formula, che è il capitale diviso 1 più I alla numero di anni, positivi se nel futuro, negativi se nel passato, in questo modo noi possiamo prendere qualsiasi valore, oh qui ho cancellato anche il 3, qualsiasi valore di capitale nel futuro o nel passato, e diciamo portarlo ad adesso, quindi poterlo confrontare con valori di adesso. Vi faccio notare che la cosa è molto molto importante, questo è uno strumento molto potente, perché vi permette di rispondere alla domanda, è meglio ricevere 100 euro adesso, o 95 euro l'anno prossimo? Ecco, potete farvi i calcoli, potete prendere i 95, scusate, 100 euro adesso o 105 l'anno prossimo, perché 95 l'anno prossimo è ovviamente. 100 euro adesso o 105 l'anno prossimo? Potete farvi i calcoli, perché da una parte avete 100, che resta 100, dall'altra parte avete 105, diviso 1 più I, beh, alla 1, perché è l'anno prossimo. Ok, vi fate i calcoli in base al valore di I, e vedete quanto è il valore. Cos'è questo valore di I? Questo valore di I è chiamato tasso di sconto. Lo scrivo a penna? No, proviamo l'azzardo a scriverlo così. Tasso di sconto. So già che me ne pentirò per averlo scritto così. Aumentiamo il font. Si può anche spostare? No, vabbè. Però si può far arrivare una bellissima freccia. Eccola qui. E a questo punto però devo cancellare con la gomma. Ok. Bellissimo. E' chiamato tasso di sconto. Ed è un tasso che decidete voi. Decide chi fa i calcoli. Supponiamo ad esempio che per voi il tasso di sconto sia il 10%. 10% è tanto, di questi tempi soprattutto. Vuol dire che per voi il denaro ogni anno perde il 10% di valore. Quindi ogni anno nel futuro perde il 10% di valore, oppure ogni anno che lo investite riuscite a guadagnare il 10%. Quindi se questo i è il 10%, questo diventa 105 diviso 1,1 che fa, e qui è la mia, abbiamo bisogno della magica calcolatrice, 105 diviso 1,1 comunque se non ho sbagliato i conti dovrebbe essere meno di 100. 95,45. Quindi 95,45. Ok. E quindi potete dire no, io non voglio 105 l'anno prossimo perché per il mio tasso di sconto, e faccio notare che tutto il ragionamento dipende dal vostro tasso di sconto, questo è minore di 100 che è la proposta alternativa. Quindi questo strumento vi permette di confrontare cose nel passato e nel futuro e con cose di adesso. Quindi vi permette di spostare le cose nel passato e nel futuro ad adesso. E si chiama valore attuale. Può succedere che voi abbiate una serie di flussi. Quindi una serie di capitali, per esempio qui magari il capitale 1, qui il capitale 2, qui il capitale 3, e qui il capitale 5. E 4, scusate, perché ho messo 5? Gomma, anzi prendiamo la gomma e facciamo il laso. Sto diventando il mago della whiteboard. Ok. E avete 4 capitali e volete che vi fluiscono nei vari momenti temporali e volete vedere a cosa equivale questo flusso di 4 capitali adesso. Quindi quanto in pratica state guadagnando. Allora, come fate a fare il calcolo? Beh, il calcolo si fa C1 fratto 1 più I, in questo caso alla meno 2, più C2 fratto niente, perché sarebbe 1 più I alla 0. Mettiamo 1 più I alla 0. più C3 fratto 1 più I alla 1 più C4 fratto 1 più I sta piaggiorando la qualità di questa alla 3. Ok. Questa cosa qui è chiamata in italiano il VAN. Valore attuale netto In inglese NPV Net Present Value Questo è il cosiddetto VAN valore attuale netto e la formula matematica scritta in maniera un po' più civile io le formule matematiche amo scriverle in questa maniera che ogni matematico considerebbe incivile ma scrivendola in forma più civile la sommatoria per I che va da 1 a N dove N sono gli N flussi di cassa CI il vostro flusso di cassa diviso 1 più accidenti chiamiamolo J perché sennò si confonde con 1 più I alla T J dove C J sono i vostri flussi di cassa cioè i soldi che ricevete ogni momento T J è il tempo a cui lo ricevete ok e il tutto funziona chiaramente sia per tempi positivi che per tempi negativi come è fatto qui nell'esempio ma funziona anche sia per C J positivi che per C J negativi perché se avete dei flussi negativi e dei flussi positivi come è tipico negli investimenti gli investimenti di solito prima pagate e poi ricevete piano piano i flussi oppure se si tratta di un debito fate esattamente il contrario prima ricevete e poi lo ripagate piano piano quindi è normale che questo C J possa anche essere negativo quando siete voi che pagate o positivo quando siete voi che ricevete quindi non stupitevi la stessa formula si può fare questa è la formula del VAN valore attuale netto si può fare quando C J è sia positivo che negativo ecco questa è la formula per calcolare gli rendimenti di flussi di cassa in tempi diversi ed è la formula anche che giustifica il fatto che ci sia persone disposte a prestarvi dei soldi qui per poi riaverne un po' di più o disposte a ricevere in presto dei soldi qui per poi pagarvene di più ho un po' di considerazioni che sono ovvie probabilmente per chi ha delle conoscenze basi di matematica I in questo caso io sto supponendo che I resti sempre costante quindi che il vostro tasso di sconto non cambi nel tempo ok se il tasso di sconto cambia nel tempo vediamo un attimo velocemente dopo come si può fare però sto supponendo che non cambi nel tempo I deve essere sempre maggiore di zero finora diciamo in finanza non si è mai successo i negativi gli negativi stanno succedendo proprio in questi anni la bibita sponsor proprio in questi anni ok però se I è positivo il tutto funziona se I diventa zero allora onestamente è inutile che mettiate in moto tutto questo marchigegno perché basta sommare direttamente i vari C se I diventa zero questo qua è uno quindi qua sotto avete sempre uno ok se I diventa negativo negativo ma mai meno uno ovviamente comunque negativo come può essere di questi tempi che sia leggerissimamente negativo è il tutto perde un senso economico perché qua sotto perché a questo punto diventa che le cose nel passato valgono di meno delle cose nel futuro quindi è meglio ritardare tutto e onestamente non ha neanche più un senso finanziario perché a questo punto i soldi non vale i soldi val la pena posticipare il più possibile tutto quindi non tratteremo mai i casi di che non siano strettamente maggiori di zero anche perché se è vero che abbiamo un'inflazione che talvolta diventa negativa o se abbiamo degli strumenti finanziari che hanno dei rendimenti negativi onestamente gli investitori sani di mente e che non siano vincolati da strani regolamenti gli investimenti con tassi negativi non li toccano assolutamente e hanno finora sempre avuto anche sotto mano degli investimenti con tassi positivi ok è giusto un cenno quando i diventa diverso cioè quando il vostro tasso di sconto diventa diverso beh se il vostro tasso di sconto diventa diverso in vari momenti in cui fate il calcolo non c'è niente da fare dovete rifare il calcolo se però il tasso di sconto secondo voi diventa diverso nel saltare da un anno all'altro quindi qui 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 a questo punto basta che lo facciate però la formula diventa molto più complicata ad esempio questo diventa c1 fratto 1 più li che sta tra meno 3 e meno 2 ok per 1 più li che sta tra meno 2 e meno 1 ok questo qua è il tasso di interesse che sta tra meno 3 e meno 2 questo qui sarà l'interesse che sta tra meno 2 e meno 1 ok e così via anzi questo no perché questo va da meno 2 a meno 1 e questo da meno 1 a 0 ok no non voglio salvarlo grazie ok quindi basta invece della potenza qui metta la moltiplicazione di tutti i pezzettini con gli i diversi quindi funziona esattamente in questo modo è molto più complicato da fare in maniera automatica da fare in maniera scriverlo manualmente o fare i calcoli manualmente è più o meno la nostra difficoltà e ok questo comunque è il van ok c'è un'altra cosa associata simile al van adesso lascio cancello tutto e dovrei riuscire a lasciare ahhh no partite via anche la sommatoria riuscire a lasciare la formula del van perché è rilevante ed è il tier io so che per chi è italiano van tier iniziano a essere un attimo ridicole come acronimi ma questi sono gli acronimi il tier che in inglese è IRR il tier è il tasso interno di rendimento tasso interno di rendimento in inglese IRR ok dal punto di vista matematico funziona così vedete questa ok se voi la mettete uguale a 0 ok diventa un'equazione per la precisione è un'equazione di grado n o meglio no è un'equazione di grado t di grado il massimo dei t quindi è un'equazione equazione di grado chiamiamolo m non è grado m m è il massimo di tutti questi t con j in valore assoluto ok quindi in questo caso in questo esempio qui abbiamo un alla terza quindi sarà un'equazione di grado neanche perché c'è scusate m non è il massimo è il massimo tra il più grande di questi t con j e il più piccolo meno il più piccolo quindi in questo caso sarà di grado 5 perché la distanza massima è da 3 a meno 2 quindi 5 è un'equazione di grado comunque è un'equazione di grado elevato questa equazione di grado elevato ha una o più soluzioni ha un numero di soluzioni che varia da 0 a m ok e la matematica quando m inizia a diventare abbastanza grande non ha ancora scoperto esattamente quando ci sono m soluzioni e quando no comunque può avere un numero di soluzioni che varia da 0 a m il tier è quel tasso di sconto quindi stiamo parlando di i che a 0 il van quindi quell'i tale per cui il van è uguale a 0 quindi la soluzione di questa equazione faccio notare che dal punto di vista rigorosamente matematico come ho detto prima la soluzione di questa equazione potrebbe anche non esserci oppure potrebbe esserci ne più di una infatti è abbastanza facile trovare delle combinazioni di c e t e i di c e t scusate tali per cui di i non ce ne sia nessuna ce ne sia più di una se però vi limitate ai casi che in finanza si trovano abitualmente che sono i casi del debito quindi il primo c positivo e poi tutta una serie di c negativi nel futuro oppure il caso del prestito cioè siete voi che prestate soldi quindi dell'investimento quindi il primo c negativo e poi tutta una serie di c positivi in questi due casi i si trova sempre quindi il tir si trova sempre si trova sempre un unico valore tale per cui questa equazione questa scusate il van va uguale a 0 se vogliamo farlo dal punto di vista grafico dobbiamo scatenare excel e qui ho bisogno invece della tastiera excel apriti ok whiteboard ok apro un po' allora facciamo subito un esempio molto pratico io l'uno dell'uno del 2022 investo 3000 euro ok poi dopo un anno mi danno indietro 300 euro dopo un anno me ne danno indietro altri 300 e dopo un altro anno mi danno indietro 2005 ok benissimo come facciamo a vederlo graficamente io qui metto dei possibili i minuscoli ok 0.0 0.1% 0.2% tiro giù fino a che so tipo 10 50% ok e qui metto il van il van potrei calcolarmela a mano ma c'è una stupenda funzione in excel che si chiama xmpv metto scusate metto il mio tasso di sconto metto i valori col dollar metto le date ed ecco che mi calcola il van se il mio tasso di sconto è solo il 0.10 vuol dire che per me il tempo vale pochissimo se per me il tempo vale pochissimo capite da soli che prendere 3100 nel futuro a fronte di 3000 spesi adesso ma è conveniente se per me il tempo vale pochissimo però più il tempo per me vale scusate ho fatto qualche errore e mancavano dei dollari qui ovviamente più il tempo per me vale vedete meno questo investimento ha senso ci fermiamo a 4.5 il resto non serve togliamo ecco qui e quindi vedete che il van diminuisce facciamo un bellissimo grafico con questi dati eccolo qui eccolo qui vedete esiste un punto in questo caso è unico in cui il van è 0 il punto è circa 1.2% vediamo se da qui corrisponde si tra 1.2% e 1.3% il van si a 0 ok e excel anche qui il buon excel ha una funzione per calcolare il tasso interno di rendimento automaticamente questo valore è mettiamo in percentuale magari con qualche cifra decimale è 1.2176% questo qua è proprio il caso tipico quindi il van per moltissimi casi strani il van non è una funzione monotona vedete una funzione monotona in questo caso quindi cala sempre o cresce sempre se state facendo un un debito invece per moltissimi casi strani non è una funzione monotona fa ad esempio delle parabole o cose del genere in quei casi possono esserci più di un tasso interno di rendimento o nessuno addirittura però in quei casi il tasso interno di rendimento smette di avere un senso se però il caso è molto standard quindi un flusso negativo e poi una serie di flussi positivi o viceversa il tasso interno di rendimento ha un perfetto senso economico ed eccolo qui cosa rappresenta dal punto di vista economico dal punto di vista economico questo è quello che avrebbe reso il vostro investimento questo se voi questi 3000 euro li aveste messi in banca con un interesse dell'1.2176% costante capitalizzato annualmente quindi rappresenta l'equivalente di mettere i soldi in banca e garantirsi un rendimento annuo costante composto quindi ogni anno ricapitalizzato ecco questo è il significato economico del tiro che è uno strumento estremamente importante perché vi promette di a questo punto di paragonare qualunque investimento se qualcun altro mi propone un altro investimento con flussi di cassa in date differenti io sì posso comunque calcolarmi il van ma con il mio tasso di sconto magari a tizio arriva a tizio e ha un alto tasso di sconto dovrei rifare tutti i calcoli invece grazie al tasso interno di rendimento ad ogni forma di investimento o viceversa ad ogni forma di debito io posso associare questa etichetta questo tier e questo mi dice quanto l'investimento rende o quanto il debito costa ovviamente perché il tutto è speculare quanto l'investimento rende quindi se sto facendo un investimento e ce n'è uno che ha il tier del 1,2,1,7,6 e un altro che ha il tier del 3% sceglierò quello col tier del 3% se invece sto chiedendo sto facendo un debito cioè qualcuno mi propone un debito col tier del 2% qualcun altro un debito col tier del 3% io sceglierò il debito col tier del 2% perché è quanto rende a lui il debito quindi io devo scegliere il debito più basso quindi questo è uno strumento molto utile perché ci permette di confrontare investimenti differenti ok adesso qui l'abbiamo fatto con Excel i conti sarebbero poti fare chiaramente tutti a mano ma un po' impazzendo una piccola considerazione io qui ho scelto dei flussi di cassa annuali così come anche qui nell'esempio i flussi di cassa erano sempre anno dopo anno si può tranquillamente anche avere dei flussi di cassa non annuali ad esempio posso avere un flusso di cassa qua in mezzo cosa succede se un flusso di cassa qua in mezzo tipo c5 un bel c5 qua in mezzo beh io avrò devo ripassare io avrò il mio bel c5 fratto 1 più i alla meno 0,5 perché è mezzo anno fa quindi usando i numeri frazionari in generale si usa addirittura avere qui il numero di giorni quindi potrei usare invece che t come numero di anni t come numero di giorni scusate perché mi si è aperto quello posso liberarmene schiacciati non si vuole più liberare ok quindi in generale potrei invece che avere t come numero di anni avere t come numero di giorni quindi chiamiamolo g così è chiaro che sono i giorni g con j diviso 3,6,5 è tutta l'esponente ok quindi questi sono il numero di giorni rispetto al giorno adesso diviso 3,6,5 quindi se esattamente non lo fa sono 3,6,5 diviso 3,6,5 fa 1 anzi meno 3,6,5 diviso 3,6,5 fa 1 ok il tutto ovviamente supponendo che ogni anno abbia 365 giorni cosa che non è vera perché ogni tanto capitano a cavolo degli anni che hanno 366 giorni e non è esattamente ogni 4 anni è ogni 4 anni tranne ogni 100 ma tranne ogni 400 ok quindi si può calcolare questo van tranquillamente anche se avete infatti Excel gentilmente se invece qui del primo gennaio metto il 23 marzo vedete adesso i numeri cambieranno tutti ma leggermente e sto spostando un flusso di cassa più avanti quindi questi diminuiranno tutti ecco non si vede neanche che sono diminuiti facciamo vediamo ah si ecco da 91 e 60 siamo passati a 91 e 54 sono diminuiti perché un flusso di cassa l'ho spostato leggermente più avanti ok però vedete può calcolare tranquillamente è diminuito anche leggermente il tasso interno di rendimento perché un flusso di cassa l'ho spostato più avanti se lo spostate esageratamente più avanti quindi invece che 2023 metto 2029 vedete che questi caleranno radicalmente ok soprattutto qui ecco adesso già il tier è sceso sotto l'un per cento quindi a questo punto se qualche banca mi proponesse un conto corrente all'un per cento netto io direi conto corrente all'un per cento netto meglio di pochissimo ma meglio ecco qui quindi questi sono i concetti il tasso l'interesse come viene calcolato l'interesse come viene calcolato l'interesse composto come viene calcolato il tier il tasso interno il van e il tier soprattutto il tier perché il tier viene veramente utilizzato per confrontare investimenti soprattutto con gli investimenti in cui abbiamo dei flussi di cassa certi che sono ad esempio le obbligazioni le obbligazioni sono investimenti con flussi di cassa certi e su quelli si calcola il tier cancelliamo tutta questa roba ma forse il lasso viene meglio aiuto no non volevo andare fuori e come faccio adesso a tornare su lasso su no sto imparando a usare la whiteboard cancelliamo anche questi queste porcherie qua sopra ok e anche questa schifezza ok e parliamo adesso di ritorni ritorni in inglese si chiama return in italiano guadagno vediamo cosa ci dice la fonte di ogni sapere quando dovete tradurre qualcosa che è no wikipedia non libera wikipedia e basta quando dovete tradurre qualcosa da una lingua all'altra e questa qualcosa è un termine tecnico io consiglio di usare wikipedia perché return scrivo return eh no magari wikipedia in inglese return rate of return è quello che mi interessa e poi schiaccio italian che vedo con tristezza che non c'è alle ecco normalmente as for sexy more c'è italiano no ok in italiano confess vedi in francese ci sarà uno mostruoso simile rentability in italiano sicuramente non c'è in tedesco come si dice return rentability perché soltanto in inglese si dice return return of investment in italiano c'è eccolo ah in italiano è return of investment è ritorno sull'investimento quindi anche in italiano si dice ritorno o redditività ok comunque in Italia normalmente anche questo è chiamato return quindi lo chiamiamo R cos'è il ritorno di un investimento beh in generale se l'investimento è complesso allora il ritorno dell'investimento lo calcolate col tasso interno di rendimento scusate si col tasso interno di rendimento si e se il ritorno è molto semplice il ritorno dell'investimento e vedrete di solito faremo così soprattutto quando il ritorno si ha nel breve periodo il ritorno lo calcolate come il capitale finale quindi supponiamo che vuoi meno il capitale iniziale iniziale ok diviso il capitale iniziale ok tutto questo facendo dei semplici passaggi matematici metto il capitale iniziale da questa R per capitale iniziale ok porto questo meno c da questa diventa più c i è uguale c f ok passaggio seguente raccolgo c c c per uno sto peggiorando perché non scrivo con la penna invece di scrivere ok vedete la formula è sempre quella in finanza si usa una formula in finanza sembra tanto complicata ma si usa una formula sola la finanza base diciamo usa una formula sola sempre quella questa è la formula di interesse semplice quindi il ritorno di cui si parla in finanza altro non è che l'interesse semplice attenzione interesse semplice semplice non composto ok quindi quando parlate di un investimento soprattutto uno a breve termine calcolate il capitale finale quindi quanti soldi prendete alla fine meno il capitale iniziale quanti soldi avete speso all'inizio è un ritorno banale banale quello spendete dei soldi dopo un po' ne ricevete gli altri tipico investimento di questo tipo un azionario comprate un'azione e dopo un po' di tempo la rivendete ok quindi capitale finale che inclue a quanto la rivendete meno eventuali commissioni meno capitale iniziale che è a quanto l'avete pagata più eventuali commissioni diviso capitale iniziale ok questo è il ritorno ok questo è diciamo il ritorno semplice ok attenzione che dipende dal periodo temporale per questo il ritorno semplice punto e basta però se io questo strumento di investimento l'ho ottenuto per un giorno e ho ottenuto un ritorno semplice del 4% e lo confronto con un altro strumento di investimento che l'ho ottenuto per 10 anni e ho ottenuto un ritorno semplice del 4% eh non è la stessa cosa perché uno ha ottenuto un ritorno semplice del 4% in un giorno quell'altro ci ha messo 10 anni ottenuto il capitale bloccato per 10 anni se voi infatti calcolate il tier non viene la stessa cosa perché il tier non usa interesse semplice usa interesse composto quindi attenzione quando calcoliamo i ritorni in questo modo cosa che faremo quasi sempre questo è un ritorno in quel tempo quindi questo è l'interesse che vi viene dato dal vostro investimento in quel tempo in cui è rimasto investito ok non potete usarlo per confrontarlo con altri investimenti che utilizzano tempi diversi per confrontarlo con altri investimenti che utilizzano tempi diversi c'è tutta una formula di equivalenza ok cancello un po' di cose vediamo se riesco a ok vi faccio un accenno a come potrebbe essere quella formula di equivalenza allora supponiamo che questo sia il ritorno che ho in x giorni ok io voglio convertirlo in un ritorno annualizzato ok questa è una cosa che si fa anche tipicamente per poter confrontare investimenti che hanno tempi diversi quindi per convertirlo in un ritorno annualizzato io so che 1 più r ok alla e fatemi pensare ok 3 6 5 fratto x il suo ritorno annualizzato lo recuperate da questa equazione ok quindi per convertirlo il ritorno annualizzato è uguale a 1 più r che ho ricavato qui alla 3 6 5 fratto x vi faccio notare che se x è esattamente 3 6 5 r e r a sono uguali e meno 1 ok quindi dovete prendere il vostro ritorno che avete calcolato qui sommarci 1 elevare la 3 6 5 dividere per x dove x sono il numero di giorni in cui avete ottenuto questo che può essere uguale a 3 6 5 in quel caso vi verrà la stacosa minore di 3 6 5 faccio notare che se x è minore di 3 6 5 questo qui aumenta questa cosa qui diventa più grande di r maggiore di r anzi maggiore di r più 1 poi meno 1 tutto diventa se x invece è più grande di 3 6 5 questa cosa qui diventa minore di r quindi in generale quello che è ovvio è che se x è minore di 3 6 5 r a sarà maggiore di r e se x è maggiore di 3 6 5 r a sarà minore di r cioè vuol dire che in questo caso voi avete ottenuto il vostro bello ritorno supponiamo del 4% in un tempo minore di un anno quindi il ritorno annuale sarà maggiore perché stiamo supponendo con dove è l'evidenziatore con questa formula qui stiamo supponendo che voi reinvestiate reinvestiate i soldi più volte ad esempio se x fosse esattamente uguale a 1 quindi voi avete ottenuto questo rendimento in un giorno questo è 1 più r alla 3 6 5 vuol dire che io posso replicare quell'investimento ogni giorno dell'anno e alla fine ottenere 1 più r alla 3 6 5 ok quindi questa formula deriva da quello deriva dal fatto che io se ho un certo rendimento suppongo che io possa reinvestire i soldi esattamente nel suo modo per tutti i giorni dell'anno fino alla fine ok e analogamente quando x è maggiore di 3 6 5 lo riscalo in questo modo quindi in generale come è ovvio che sia come è ovvio che sia se x è più piccolo di se il periodo è meno di un anno il rendimento annuale sarà maggiore di r se il periodo invece è più grande di un anno il rendimento annuale sarà più piccolo del rendimento che avete avuto quindi questo è un ottimo modo per calcolare il rendimento nel periodo in cui siete rimasti investiti se però lo volete confrontare con altri strumenti quindi volete ottenere il tier ok dovete fare così ho un'altra alternativa è calcolare direttamente il tier se calcolate direttamente il tier ottenete RA direttamente proprio quindi se applicate la formula del tier vi posso assicurare che ottenete esattamente RA quindi questo diciamo è un metodo alternativo per calcolare il tier abbastanza velocemente se avete solo due flussi di cassa come accade quasi sempre negli investimenti come sempre negli investimenti avete un capitale iniziale un capitale finale negli investimenti soprattutto quelli che si fanno in trading non si fa mai trading con le obbligazioni o con cose che danno dividendi o cedole avete un capitale iniziale un capitale finale e il tasso interno di rendimento vi calcolate il rendimento così e dopo il tasso interno di rendimento lo potete calcolare agevolmente usando queste formule esiste però in finanza un altro tasso interno di rendimento scusate un altro return un'altra redditività cancello tutta questa cosa qui ora io quando la applico mi chiedo sempre diciamo da accademico dico sì sì questo è meglio da piccolo risparmiatore però perché io sono allo stesso tempo anche un piccolo risparmiatore mi chiedo sempre perché mai dovrei mettermi a calcolare i rendimenti in questo modo bizzarro l'altro metodo è questo logaritmo naturale del capitale finale fratto il capitale iniziale questo è qui matematica delle superiori ok è esattamente uguale a questo ora qui è io diciamo che mentre da accademico da matematico dico ah che bello è elegante infatti vedremo poi ha una serie di proprietà che sono bellissime e da piccolo risparmiatore mi dico ma a me onestamente perché dovrei usare questa formula qui invece che la formula precedente che mi sembrava molto più sensata questa formula qui se voi applicate l'esponenziale a destra a sinistra vi dice che CF fratto scusate ok scusate ho sbagliato questa formula qui deriva dall'idea che gli investimenti crescano esponenzialmente per quello usa il logaritmo usa il logaritmo per sostanzialmente trovare il fattore di crescita esponenziale degli investimenti ha un suo senso che gli investimenti crescano esponenzialmente però non è proprio così perché non è che la banca mi dà l'interesse istante per istante la banca mi dà l'interesse anno per anno trimestrale per trimestrale non me lo dà istante per istante quindi usare un esponenziale per la crescita dal punto di vista del piccolo risparmiatore non ha nessun senso anche perché diciamolo chiaramente alla fine io incasso CF non incasso il logaritmo di CF quindi a me non interessa come piccolo risparmiatore la differenza tra il logaritmo di CF e il logaritmo di CI a me interessa la differenza tra CF e CI ok quindi dal punto di vista i più piccoli risparmiatori stocano molto il naso a vedere questa formula perché perché la crescita non è veramente esponenziale e perché quello che incasso è CF non è il logaritmo di CF ok tuttavia ha tutta una serie di proprietà la prima è che mentre questo è chiamato il log return scriviamo la parte log return ok la prima proprietà è che mentre solitamente i ritorni del mercato azionario non sono distribuiti normalmente quindi se voi prendete il mercato azionario calcolate il ritorno di ogni azione giorno per giorno e fate una distribuzione o calcolate il ritorno della stessa azione giorno per giorno non vi è in una bella distribuzione normale voi sapete quella fatta così ok qui c'è il ritorno medio ritorno medio non vi è in una bella distribuzione normale i ritorni del mercato azionario si vede sperimentalmente sono distribuiti secondo la cosiddetta log normale quindi in un modo un po' diverso in particolare si vede che questo ritorno qui invece è distribuito si vede in maniera empirica normalmente quindi è questo che quindi chiamiamolo LR il log return è log return che è distribuito normalmente e a questo punto giustamente potete obiettare e a me che me frega è frega perché molti test statistici hanno la distribuzione normale come requisito perché il test funzioni se la distribuzione non è normale il test potrebbe non funzionare soprattutto in casi dubbio filo filo col dubbio invece se la distribuzione è normale il test ha garantito tutti i suoi assunti teorici funziona meglio quindi diciamo che con il log return riusciamo ad applicare meglio dei test statistici che invece con return solito che non è solitamente non è distribuito in maniera normale non potremmo applicare anche se la maggior parte delle persone dei ricercatori lo fa e questo è il primo motivo il secondo motivo è un motivo di somma ok voi avete visto prima quanto complicata era la formula per come si dice per convertire un rendimento su x giorni con un rendimento annuale qui la formula richiedeva il calcolo di un esponenziale il che vuol dire sostanzialmente il calcolo di una potenza e di una radice ok o comunque voi che vi frega giustamente le fa la calcolatrice però se ne dobbiamo fare tantissimi ad esempio perché avete un paniere di tantissime azioni o avete tantissimi rendimenti giornalieri volete tutti convertirli in annuale o cose del genere quindi se dovete fare calcoli massicci è calcolare esponenziali massicciamente mette in ginocchio il computer ma soprattutto introduce una marea di errori di calcolo perché questi calcoli esponenziali tendono a introdurre molti più errori se i numeri sono piccoli e i numeri sono piccoli perché il rendimento ad esempio giornaliero di qualunque investimento tendenzialmente è un numero piccolo piccolo quindi tende a introdurre parecchi errori se invece volete convertire il log return da giornalieri a annuali la formula diventa molto più semplice perché il log return annuale altro non è che il log return del vostro periodo di investimento per proprio brutalmente per x fratto 3 6 5 numero di giorni fratto 3 6 5 ok e scusate no 3 è l'inverso ovviamente perché sennò 3 6 5 fratto x ok quindi se x è 1 semplicemente moltiplicate il vostro rendimento giornaliero per 3 6 5 e ottenete il rendimento logaritmico annuale ok l'altra cosa è se avete due investimenti in fila tipo da qui investite comprate qui vendete qui dopodiché qui ricomprate e qui rivendete quindi due investimenti in fila ok ognuno col suo rendimento r1 r2 ok trovare il rendimento finale usando il return normale return semplice è una formulaccia non indifferente ok richiede moltiplicazioni invece se avete i due rendimenti logaritmici lr1 lr2 il rendimento finale il rendimento totale da qui a qui usando il log return altro non è che lr1 più lr2 quindi log return ha questa splendida proprietà matematica che se dovete sommare degli investimenti concatenati basta sommare i rendimenti cosa che invece non vale per rendimento semplice perché se dovete sommare i rendimenti concatenati dovete iniziare ad applicare la moltiplicazione di uno sull'altro quindi dovete concatenare delle moltiplicazioni qui invece concatenate delle somme oh inutile dirvi che fare le somme per un computer è molto più facile che non fare le moltiplicazioni così come in questo caso qui fare una moltiplicazione per un computer è molto più facile come rispetto all'altro caso calcolare un esponente quindi questo è l'altro motivo per cui si usa tendenzialmente il log return perché se dobbiamo convertire in annuale o se dobbiamo sommare sequenze di investimenti di investimenti concatenati è molto più semplice fare i calcoli un caso tipico ad esempio è avete i rendimenti giornalieri di un'azione per tutto l'anno e volete calcolare qual è il rendimento anno di quell'azione ok supponendo che non abbiate i prezzi perché se avete i prezzi è banale prendete il prezzo finale meno prezzo annuale diviso e lì è facile però supponendo che non abbiate i prezzi avete soltanto i rendimenti avete i rendimenti giornalieri di un'azione e volete calcolare il rendimento annuo lì diventa molto facile se avete il log return basta che li sommate tutti facile facile oppure se avete il rendimento medio giornaliero e dovete convertire il rendimento annuo basta che lo moltiplicate per 365 ok e se invece avete il rendimento cioè quello che ho fatto vedere prima i rendimenti giornalieri e dovete calcolare il rendimento annuo e dovete prendere uno più il rendimento di ogni giorno moltiplicarli tutti ok e dopo togliere uno ok quindi dovete fare 365 moltiplicazioni invece che 365 somme che ben sapete è molto più difficile per un computer ma soprattutto introduce molti molti più errori soprattutto in casi del genere in cui le cifre sono piccole cifre piccole vuol dire tendere che ogni errore ha un grosso impatto ok peggio ancora se avete i rendimenti semplici medi ok lì richiede anche lì potenze e cose del genere quindi le operazioni di concatenazione fatte con i rendimenti logaritmici sono molto molto più facili questo è il motivo per cui spesso in finanza si usano i rendimenti logaritmici invece dei rendimenti semplici oh questa prima lezione è finita abbiamo visto interesse interesse composto l'asse dei tempi perché il denaro nel futuro vale meno del denaro nel passato abbiamo visto il van e il tir che non sono sistemi di autotrasporto ma sono il valore attuale netto e il tasso interno di rendimento abbiamo visto una cosa che altro non è che il tir che è il rendimento semplice rendimento semplice quando lo annualizzate altro non è che il tir però è molto più facile da calcolare se avete semplicemente valore nel futuro e valore adesso quindi due valori la vendita e l'acquisto di solito o viceversa e poi abbiamo visto questo strano log return che viene usato spessissimo in finanza e ha tante proprietà quindi non è esattamente come dice paperonde e paperoni che il tempo è denaro tranne quando qualcuno vi blocca il telefono e stranamente in 40 minuti di video nessuno mi ha telefonato ma è il tempo moltiplica il denaro tempo più uno moltiplica no neanche il tempo è l'esponente che date al vostro tasso di sconto più uno da moltiplicare al denaro quindi la situazione è un po' più complessa di quello che dice paperone grazie grazie